www.feyyaz.tv L'alchimia finale garantita sorseggiando un buon calice di vino immersi in un luogo incantato. Via Pietro Soriano, zona Sant'Andrea delle Fratte, Perugia. Bar Pippo. Sempre gli stessi. Dal 1964. L'alchimia finale è un buon calice. Buonasera ai nostri ascoltatori del canale 11 di Teleradio Gubbio. Sporting Country del martedì e ci occuperemo in particolare in questa puntata di... Torneremo ancora sulla gara, l'ultramaratona di domenica scorsa al Lago Trasimeno e poi parleremo nella seconda parte di tennis, tennis regionale, con i tornei che sono in corso e con l'inizio della stagione. Allora, intanto partiamo da due protagonisti direi assoluti, due Umbri che hanno brillato in una competizione dove brillare è abbastanza duro perché 58 chilometri comincia ad essere una distanza importante. Allora, ovviamente, insieme a Luca Uccellini che era il nostro inviato per sport e incontri a questa gara. Ieri sera avete visto le interviste, le immagini, le rivedrete anche durante questa puntata. Abbiamo qui la mia sinistra, Roberto Bellini dell'esercito Cesella di Foligno. Tempo 4 ore, 8 minuti e mezzo, diciamo così. Quindi credo un tempo importante che gli ha permesso anche di, appunto, 10 ma assoluto, primo della categoria over 45. E poi, salita sul polio invece assoluto, è Federica Poesini da Tiferno Runners che ha impiegato 4 ore e 31 minuti. Partiamo ovviamente da Federica per cavalleria. Chiaramente anche perché? Per il risultato. Perché terzo posto, te l'aspettavi in una competizione dove, in questo tipo di competizioni, poi Luca ce lo spiegherà meglio, chi arriva da fuori, arrivano quelli tosti, non vengono a fare 58 chilometri in Umbria. No, quindi ti aspettavi quindi questa performance, questo risultato. Io sono molto soddisfatta di questo risultato, anche perché per me era la prima esperienza di ultramaratona. Quindi sono molto contenta di aver raggiunto questo risultato. Era una cosa nuova, ecco, come ho detto prima, perché ho fatto fino ad oggi il massimo di distanza è la 42 chilometri. E quindi fare un'ultra è una cosa ben diversa. Quindi sono come prima esperienza molto soddisfatta e vedremo, insomma, di migliorare. Ecco, tu non eri andata mai oltre i 42? No, la prima volta, la prima volta che facevo un'ultra. Ecco, come ti sei trovata? Perché avrei fatto qualche allenamento specifico oppure sei andata così? No, onestamente non ho fatto nessun allenamento specifico, se non la maratona di Terni, dove ho fatto un tempo di 2 ore e 56 minuti e poi non ho fatto altro. Ho detto voglio provare e vedere come, ecco, era una, diciamo, una scommessa con me stessa, vedere fino a quanto poteva arrivare. Chiaramente capisco che un'ultramaratona va preparata, perché ecco, dopo il 42esimo chilometro arriva il muro e se non sei preparato, insomma, un pochino, diciamo, ne paghi le conseguenze, soprattutto nella tenuta del ritmo. Ecco, quindi questa era una cosa che volevo provare. Ho visto comunque che poi alla fine, nonostante non avessi fatto un allenamento specifico, sono riuscita a tenere fino al 58esimo chilometro senza particolari problemi. però, ecco, allenandosi uno può mirare ad avere un risultato ancora migliore, sicuramente. Ancora migliore, certo. Vediamo un attimo a Roberto Bellini che è stato ospite, mentre credo che Federica sia la prima volta che viene alla nostra trasmissione, invece a Roberto Bellini, ufficiale dell'esercito Cesella di Foligno, che si occupa tra l'altro di, come attività all'interno appunto del corpo militare, di... Sì, sempre attività legata un po' all'aspetto sportivo. E informativo, insomma, no? Sì, attività ginnico-sportiva anche. Ginnico-sportiva. Ecco, eri, hai fatto anche altre gare e quindi per te non era proprio una novità assoluta? No, per me le ultra no, non è una novità assoluta. Ho fatto il passatore cinque volte, poi ho fatto anche ultra trail. Passatore su un cento chilometri, no? Sì, il passatore su un cento chilometri, esatto. Sì, è andata in cui oltre? Come chilometraggio sì, non su strada, con i trail. Ho fatto anche le vie di San Francesco, 200 chilometri. Ho fatto l'UTMB, il giro del Monte Bianco, 170 chilometri. Però, ripeto, non su strada, quindi un po' un... Un po' diverso. Un sport diverso, diciamo. Certo. Per certi aspetti più duro, per altri forse, non essendo come la corsa su strada, un ritmo costante, ma si alterna camminata, corsa, qualche sosta ai punti ristoro, perché, contrariamente a quello che accade su strada, per i trail bisogna fermarsi anche qualche, diciamo, secondo minuto per rifornire le scorte idriche, che sono obbligatorie da portare al seguito. Quindi, sono ritmi diversi, comunque, ripeto, sempre abbastanza impegnative come gare. Ecco, quindi sì, chiaramente c'è tutta anche un'altra impostazione tattica, chiaramente tecnica. Certamente. Morire di correre diversa, di muoversi diversamente. Però, insomma, decimo posto assoluto in un cast di atleti importanti. E poi, per Imo, nella categoria over 45, che non è una categoria, secondo me, di secondo piano, specialmente in questo tipo di manifestazioni. Sì, sì, diciamo che queste manifestazioni sono, non rivolte, ma comunque chi va forte non è giovanissimo, magari, no? Basta vedere quello che fa Giorgio Calcaterra, insomma, nelle ultra, e ha più o meno, credo anche lui sia 71-72, più o meno, ha la mia età, e quindi, sì, anche chi è un po' più in lago gli anni ancora può dire la sua. Io, sinceramente, non sono molto soddisfatto di quello che ho fatto ieri, anche sì, vabbè, diciamo che primo di categoria, decimo, però tante volte conta più quello che ti senti all'arrivo, piuttosto che il risultato in assoluto. E quello che diceva Federica è vero, mi è successo un po' una cosa quasi da debuttante, da dilettante, io dopo il 42esimo chilometro il ritmo è crollato, non so se perché non ero ben allenato, non era aggiornata, o forse perché magari sto facendo un po' troppi chilometri, perché di lunghi non ho fatti parecchi, e via via, insomma, di strada non ho fatto parecchia, quindi forse era anche un po' stanco, non lo so. Comunque, sicuramente, non ho fatto una gara così come volevo farla. Fino al 42esimo ho un ritmo brillante, ero soddisfatto, stavo bene. E poi, come a volte capita, si è spenta un po' la luce, la benzina è finita e sono arrivato sulle ginocchia quasi. Insomma, potete puntare al podio anche? No, beh, il podio assoluto assolutamente no, però diciamo che negli ultimi 8 chilometri ho contato, ho perso 5 posizioni, quindi ecco. Ma non è quello, ripeto, è tanto la sensazione che non mi è piaciuta di fare gli ultimi 10 chilometri, gli ultimi anche un po' di più di 10 chilometri, solo di testa, perché le gambe erano andate proprio. Però va bene, alla fine poi dopo passa un secondo dall'arrivo e ti senti bene di nuovo e sei contento di quello che hai fatto. Ah, certo, certo. Ecco, il tempo di recupero su una gara così? Ma oggi non ho corso, domani correrò sicuramente. Oggi non avevo tanta voglia e non ho corso. Io vado un po' anche a sensazione, non è che seguo tabelle rigide. Corro per il piacere di farlo, quindi anche come tipo di allenamenti, sì, cerco un pochino di seguire uno schemino che mi faccio io anche mentalmente, ma non è che sono poi così rigido. Quindi domani sicuramente, anzi già da stasera, mi è mancata la corsa quotidiana, quindi sicuramente domani correrò di nuovo. Le gambe già stanno a posto, ieri ero un po' indolenzito, anche stamattina, ma adesso già sento che vorrebbero ripartire. Insomma, quindi va bene, domani sicuramente una quindicina di chilometri mi li faccio. Certo. E Federica invece come si è trovata all'indomani della gara? Io onestamente mi alleno tutti i giorni. Per me la corsa fa parte della mia vita, quindi come si dice non posso stare senza. Comunque anche io oggi ho deciso di non correre per un attimino per riposare e domani ripartirò a fare un allenamento di defaticante. Defaticante. Vediamo, onestamente sto bene, però ecco da stare fermi, riprendere un pochino il movimento cambia. Sicuramente il muscolo è un pochino normale, che insomma ci sia il trauma muscolare, quindi sentirò un po' di dolore. Però ho fatto insomma altre prestazioni, non così di questa distanza, però è di solito ecco un paio di giorni e poi dopo si riparte piano piano. e dolori uno quando sta bene. E' molto importante, io credo che è questo, che quando uno arriva alla fine di una gara, che qualunque sia la distanza, è chiaro che più lunga è la gara, ma io penso che quello che cambia è quanto uno sta su strada, perché fare una... Io parlo di maratone perché fino ad oggi ne ho fatte 68, quindi un po' di esperienza ce l'ho. Posso dire che ho fatto maratone e quindi quando ho avuto dei risultati importanti e quindi stare sulla strada sotto le tre ore, secondo me è un recupero molto più veloce che quando uno invece deve stare su strada molte più ore. Quindi quando c'è un buon allenamento e uno comunque fisicamente è a posto, che non ha dolori, il fisico recupera velocemente. E rispetto magari, no, che uno si porta dietro dei traumi fisici e anche magari non è molto allenato, perché il fisico ne risente più. Quindi io dico molto che è importante allenarsi bene e poi, come diceva lui prima, magari uno è anche a giornata, magari pensi di partire e fare un buon risultato e invece non viene quello che tu avevi in previsione. Magari la giornata che non ci pensi viene fuori un risultato, però alla base di tutto c'è sempre un buon allenamento e questo è fondamentale. E poi la distanza appunto così elevata può creare delle sorprese, penso, no? Può starci, no? Che un'altra che si è preparato bene può trovare, cioè quando si va oltre le quattro ore di corsa. Il tempo di corsa, come diceva lei, è lungo, quindi magari tre ore stai benissimo, poi all'improvviso arriva la crisi, ci può stare. Magari può essere il contrario che pensi. Oppure è successo a me anche al contrario, magari di partire così un po' che le gambe non girano e poi piano piano scaldandosi, insomma andando avanti, ho chiuso alla grande. Sì, sì. E vabbè, quindi ecco la conferma appunto di chi è abituato lascia qualche scoria comunque la gara così, qualcosa, qualche dolore muscolare, qualche... Un pochino diciamo sì, però io onestamente fino ad oggi e di lunghe distanze, ecco come ho detto prima, al massimo la maratona, questa è la prima oltre che faccio, ecco un giorno, due, poi io di solito riprendo ad allenarmi normalmente e fino ad oggi insomma posso dire che tanti traumi sul di più non li ho avuti, anche perché forse ecco essendo abituata ad allenarmi in maniera dura tutti i giorni, fisicamente sono abituata a reggere anche certi sforzi. Certo. Allora io darei adesso la parola a Luca per un commento tecnico, dei risultati, di chi ha vinto, insomma ecco di tutta la manifestazione e poi puoi continuare con le domande con i nostri ospiti. Tanto c'è da dire, come giustamente hai detto tu, chi viene a farla 58 chilometri chiaramente è gente mirata, preparata, quindi nella nostra grande maggioranza sono atleti esperti della disciplina, per cui competere con questi atleti chiaramente è difficile. Capisco Roberto che viene da un sesto posto dello scorso anno e come ha detto fino a pochi chilometri prima era in linea diciamo con il risultato. Niente, ieri è stata una gara, una bella manifestazione come poi è stato dimostrato anche dal servizio andato in onda ieri sera. Una gara che ha raggruppato oltre 2.000 partenti considerando i 5 traguardi, quindi 5 gare in un unico evento, 2.000 partenti, tantissime anche le presenze dall'estero perché più di 10 nazioni erano presenti, per cui ecco è un grande successo. Quest'anno anche il tempo è stato clemente e credo che loro me ne possono dare atto si sia corse in una giornata abbastanza ottimale tranne forse nella seconda parte della gara dai 58 chilometri in cui il vento magari un pochino ha infastidito, però rispetto al temporale, alla pioggia, al vento dello scorso anno quest'anno gli arrivi perlomeno sono stati asciutti e quasi tutti con il sorriso. L'anno scorso era proprio un penoso vedere arrivare certi atleti. Parlando dei risultati possiamo dare un attimo una scorsa appunto ai vari traguardi nella 58 chilometri si è ripetuto Carmine Buccilli che per la terza volta ha vinto a Castiglion del Lago quest'anno l'ha fatto a tempo di record per quel che lo riguarda in tre ore 33-39 ha abbassato di quasi due minuti il tempo dello scorso anno poi come ha detto nell'intervista ha corso praticamente sempre solo perché è passato io ero alla mezza maratona a farlo speaker a 21 chilometri è passato con già quasi cinque minuti di vantaggio sul secondo quindi ha fatto gara praticamente a sé stessa cosa può essere detta per la Federica Moroni la vincitrice della prova femminile tra l'altro è arrivata non assoluta considerando anche gli uomini quindi un grande risultato in quattro ore cinque e cinque andando negli alti traguardi a ritroso nella maratona al traguardo di maratona la vittoria di Matteo Merluzzo in due ore e quarantasei e di Anna Maria Caso in tre ore e ventidue nel traguardo di 34 chilometri che poi era l'unico che non era diciamo una distanza ufficiale si è imposto Gianfilippo Grillo della I Love Run Athletic Turn in due ore e zero quattro davanti a Pina sì scusate davanti invece a livello femminile Pina Dejana della Spabastia in due ore e trenta nella mezza maratona appunto Giuseppe Delpriori in un'ora tredici e Maria Casciotti in un'ora e ventiquattro nel traguardo di dieci chilometri il ritorno nelle gare Umbre di Abel Murad ancora forte 32 minuti e tredici il suo tempo e a livello femminile Francesca Volpi in 40 e 35 quindi tutti i risultati abbastanza buoni possiamo dire ecco dicevi duemila partecipanti vabbè il tempo sarà giustamente una buona giornata l'organizzazione della Filippide l'organizzazione della Filippide sì quest'anno un'organizzazione che non ha lasciato nulla al caso avevano predisposto per ogni traguardo per ogni arrivo un responsabile della della società stessa per cui non si sono avuti avute problematiche per lo meno grandi quest'anno hanno scelto una location diversa partenza e arrivo non più nel centro storico ma nel lungo lago quindi dal punto di vista paesaggistico possiamo dire un arrivo un pochino più anonimo però logisticamente molto ben gestito per loro che finivano dentro il centro storico con un tratto in salita stavolta è stato un sollievo per cui ecco una manifestazione che ha raggiunto le 18 edizioni è andata sempre increscendo sia a livello numerico che a livello organizzativo credo che a questo punto perlomeno per l'ultramaratona sia uno dei punti fermi appunto del calendario dell'ultramaratona internazionale certo dicevamo quanti hanno chiuso i 58 km cioè concluso l'hanno oltre 400 persone possiamo dire non dico il 100% ma credo poco meno perché mi sembrano sui 400 intorno ai 450 iscritti e oltre 400 l'hanno portato a termine tra maschile e femminile tra maschile e femminile dicevamo 2000 partecipanti sul divisi nei vari traguardi abbastanza equamente però 450 per una gara da 58 km la presenza c'è sta a significare che è diventata una gara già di riferimento infatti i 58 km sono una gara molto molto apprezzata specialmente come giustamente dicevi tu da chi viene da fuori regione perché la stragrande maggioranza erano atleti di altre regioni e tantissimi gli stranieri c'era addirittura un sudafricano un americano parecchia parecchia gente quest'anno forse a livello di top runner è mancato un qualcosa lo stesso Cliva credo che si sia ritirato vincitore di diverse edizioni per cui magari ecco c'è da ricordare che lui è stato il secondo Umbro il primo Umbro un altro Folignate che avevamo invitato ma per problemi di lavoro non è potuto venire questa sera Matteo Zucchini dell'Atletica Winner che è arrivato quarto assoluto una grande una grande prova per Matteo che ci ha promesso in una delle prossime puntate di essere per raccontarci la sua esperienza eh sì intanto noi la finestra sull'Atletica Leggera soprattutto adesso che inizia la fase estiva sia sulle gare su strada ma anche su pista perché oramai si comincia anche a a gareggiare su pista quindi grazie anche a Luca di aprirla questa finestra con alcuni protagonisti che varieranno anche a seconda delle gare delle manifestazioni allora Roberto Bellini qual è il prossimo prossima gara la prossima gara è in Toscana la Tuscany Crossing 100 miglia Castiglione Val d'Orcia 100 miglia sono tanti eh lo so sono sui 160 160 chilometri 160 chilometri e beh insomma e questa quando c'è mi dicevi il 26 aprile quindi era avvicinato l'impegno sì beh tanto ripeto io bene o male insomma le metto un po' tutte in fila una fa d'allenamento per l'altra quindi quanto riesci a farli in un anno di questo di queste dimensioni beh di ultra 3 4 più o meno sono poche no Luca considerando che in un'altra trasmissione ci ha raccontato l'esperienza dell'ultra 3L del Monte Bianco sì appunto credo che anche questa della Toscana poi non sia tanto da meno perché anche lì credo sarà una gara da oltre 30 ore la 100 miglia è il primo anno che la fanno quindi io ho fatto già un paio di volte la 100 chilometri fino all'anno scorso era a distanza maggiore è bellissima in Val d'Orcia molto corribile quindi più adatta a me perché i trail a volte hanno dislivelli elevatissimi più da montanari dico io che da runners veri e propri però questa è abbastanza corribile e quindi oltre al piacere di gustare un paesaggio che è quello della Val d'Orcia bellissimo c'è anche la possibilità insomma di di correre parecchio e quindi di seguire un po' quella che è la mia attitudine in questo tipo di gare attitudine che è nata per caso questa qui che hai scoperto per caso beh sì la corsa non l'ho scoperta per caso fin da bambino ho sempre avuto diciamo il piacere di correre e mi riusciva abbastanza facilmente però non ho mai fatto competizioni prima dei 30 anni più o meno quindi per caso sì perché correvo per stare bene poi ho conosciuto un ragazzo che mi ha detto ma perché non proviamo a fare qualche gara e ho provato ho visto che mi divertivo e avevo anche dei risultati diciamo da amatore lusinghieri per cui ho continuato e l'appetito forse già ha detto questa frase l'appetito viene mangiando e sono aumentate il numero di gare sono aumentate le distanze e finché mi diverto vado avanti insomma poi come diceva Federica noi che corriamo quasi tutti i giorni se un giorno per qualsiasi motivo non possiamo correre già ci sentiamo male insomma vi banca è così allora Federica io invece ho fatto la la gara la 58 del Trasimeno onestamente perché era una curiosità di provare un qualcosa di più della 42 però io probabilmente invece come distanza mi fermerò nel senso che adesso non so se ne rifarò un'altra non lo so adesso vediamo restiamo sulla maratona io sì anche perché ho in previsione di fare la maratona di Berlino e il prossimo settembre di fare lì abbassare i tempi e quindi non so se anche lui è d'accordo ma per tenere certe velocità bisogna fare distanze diciamo più brevi è vero mi sta succedendo questo in realtà sì che ho perso molta velocità purtroppo un po' mi dispiace infatti dall'anno scorso a quest'anno anch'io ho fatto terni e ho perso quasi cinque minuti sul tempo finale perché sono già due tre anni che faccio molte ultra molti chilometri e anche come dicevo salite montagna e quindi è un po' un altro sport per cui si perde velocità è chiaro che qualcosa devi sacrificare certo qualcosa e quindi quant'è il tempo tuo sulla maratona al tuo record personale? due ore e 56 che ho fatto alla maratona di terni che ecco poi è anche un percorso un po' complicato secondo me Federica la sua gara è la maratona questa come detto lei è stata una prova ma secondo me lei deve andare su questa distanza considerando che nel 2018 se non va derrato ha vinto il titolo italiano di categoria di maratona è arrivata terza donna la maratona italiana la maratona di New York se lavora se lavora bene per questo per questo traguardo già due 56 a livello femminile amatoriale non è da buttare via anzi tutt'altro ma come giustamente dice lei con una preparazione mirata scegliendo non tante ma un paio di maratoni all'anno adatte può scendere sotto alla grande quindi ecco secondo me questo è stato un divertimento ma giustamente come dice lei è solo un divertimento io ripeto se fossi in lei punterei tutto sulla mezza ma sulla maratona specialmente perché oramai una certa esperienza sa come gestirla e quindi può fare belle cose sì è vero confermo ho fatto questa qui perché me la sentivo di casa ecco essendo umbro ho detto devo andare almeno una volta a fare la 58 ed era una cosa che volevo fare ora ecco non dico che non la rifarò il prossimo anno però ecco una volta l'anno magari sì questa qui del lago che è anche un posto come lo sento proprio di casa però io sono una maratoneta e come dicevo prima ne ho fatte così tante che un po' di esperienza ce l'ho e quindi avendo un po' di esperienza e migliorando anche la tecnica di allenamento spero di fare insomma tempi migliori 2,56 comunque c'è da dire che quest'anno va bene è andata sempre bene ma quest'anno sta andando bene su tutto perché considerando che nei primi siamo a marzo primi tre mesi ha già vinto 4-5 gare al di là del terzo posto sulla Strasimeno che come ci ha detto nell'intervista vale più di una vittoria questa volta cioè finora è l'atleta Umbra più vincente per cui tutto tutto tutta strada aperta a grandi risultati sì a continuare ancora onestamente mi sento ecco di impostare le gare mirando alla velocità poi ecco come dicevo prima e per fare questo credo che devi non devi caricare troppi chilometri altrimenti questo un pochino ti allenta e per il momento è una cosa che non voglio fare poi in futuro vedremo considerazione giusta è ovvio anche come diceva Roberto i lunghi ti fanno perdere ti fanno perdere velocità quindi o inserisci in mezzo dei lavori veloci tipo dei medi tipo delle ripetute se no chiaramente corri a lungo acquisti resistenza ma la velocità la perdi senza problemi senza dubbio certo confermo certamente quindi per te invece Federica a questo punto maratona di Berlino e poi ancora onestamente non ho programmato adesso mi prendo diciamo un po' un periodo di fare mi allenerò adesso non dico che non farò più garettine però ecco un momento di scarico di chilometri perché uno il fisico deve avere anche un tempo di recupero e poi ecco dovrò riprogrammare cosa fare vediamo prima comunque forse ho una mezza idea di fare il giro dell'Umbria a tappe sì forse sicuramente che però si corrono ovviamente su distanze molto più brevi sono distanze brevi è un'occasione per fare lavori veloci a questo punto con lo stimolo della gara per cui sì quest'anno poi un giro abbastanza impegnativo perché c'è di mezzo anche una crono scalata giusto qui da Santa Maria degli Angeli fino alla Rocca di Assisi per cui sono delle tappe sì abbastanza impegnative Luca domenica prossima cosa abbiamo domenica c'è la gara di Solomeo se non vado errato una gara di 13 chilometri un percorso scorrevole quindi è l'appuntamento principale voi non partecipate a questa gara qui no io no no non perché ho altri impegni familiari quindi domenica non parteciperò io allora onestamente non ho ancora deciso però forse la cosa migliore sarebbe recuperare poi vediamo recuperare un po' ci vede io nel mio piccolo andrò a Milano alla Stramilano ah tu corri alla Stramilano però a 10 chilometri andiamo in 4 della podistica volumine a 3 sulla mezza maratona io al momento la mezza maratona non ce l'ho nelle gambe quindi farò la 10 bene allora noi interrompiamo qualche minuto perché poi parleremo di tennis e parleremo di tennis come in atletica appunto anche di ciclismo di sport maggiori diciamo che si affacciano in primavera hanno il loro picco in estate e poi pian piano arrivano in autunno e poi in inverno magari c'è un po' meno attività però insomma questo è anche uno dei nostri compiti di questo nostro progetto televisivo vi ricordo che Sport e Incontri si vede tutti i giorni dalle 23 alle 24 il lunedì spesso partiamo anche alle 22.30 così come faremo adesso a partire che noi dal mese di aprile di maggio anche giovedì e sabato sul canale 11 di Teleradio Gubbio replica il giorno successivo alle 22 alle 12.30 canale 11 e alle 18 e 15 sul canale 11 andiamo ovviamente in streaming poi potete rivedere se ha ovviamente lo streaming e tutte le puntate cioè tutta la serie delle puntate collegandovi con www.trgmedia.it funziona anche un sito facebook con Sport e Incontri la trasmissione settimanale dello sport giornaliera diciamo dello sport dell'Umbria che abbina spesso anche aspetti culturali della nostra regione e non a tra poco azienda agricola pioppi benvenuti nella natura dal produttore al consumatore il migliori carne ovini e suine bovine e avicole tutto a chilometri zero per la vendita diretta il negozio è aperto dal mercoledì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30 azienda agricola pioppi è in via Arturo Graffe 35 Svincolo Mantignana telefono 075 6978 756 www.aziendaagricolapioppi.it contribuire al successo targato Made in Italy attingere dal nostro saper fare artigiano è la nostra prerogativa principale dar spazio alla qualità e alla creatività che caratterizzano le nostre collezioni e il nostro modo di intendere e concepire la moda Badiali realizza capi in Kashmir prendendo ispirazione dalla nostra Umbria fatta di bellezze autentiche e mozzafiato una regione ricca di tempo e di storia dove si possono ancora respirare coltivare e trasferire nel lavoro quei valori profondi dell'impresa familiare che poi si traducono nella cura artigianale di un prodotto di alta qualità questo è il nostro modo di essere questi i valori del nostro brand vieni a visitare la nostra collezione direttamente in fabbrica Badiali lo trovi in via Fiamenga 45 47 Foligno Perugia telefono 07 42 20 643 Rosso Pomodoro la migliore tradizione campana italiana a tavola un luogo ideale per ogni occasione spazio bambini con gonfiabile ed animazione per i tuoi compleanni i nostri menu stagionali i prodotti slow food il pesce fresco a pranzo e a cena e la vera pizza napoletana anche senza glutine sono i nostri punti di forza Rosso Pomodoro garanzia della qualità al miglior prezzo presso il centro commerciale con le strada siamo aperti tutti i giorni fino alle 24 pasticceria etrusca da 40 anni al servizio dei nostri clienti tutto di nostra produzione bar gelateria tavola calda pranzi veloci aperto tutti i giorni festività comprese dalle 5 del mattino alle 22 pasticceria etrusca se ci assaggi non ci lasci più ci trovi a Perugia in via cortonese 1F di fronte alla sede della regione Umbre al Broletto pasticceria etrusca da 40 anni al servizio dei nostri clienti alla tavola rotonda un ambiente familiare e un servizio accurato rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare piatti tipici della tradizione Umbra e il gusto della pizza offre inoltre nelle sue ampie sale servizio completo per cerimonie e banchetti l'hotel è ideale per gruppi famiglie e coppie parcheggio privato ampio giardino la tavola rotonda a Santa Maria degli Angeli dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi sinoltra nel Bosco di San Francesco incontriamo l'Osteria del Mulino dove i sapori della tradizione Umbra si fondono con la bellezza della natura prodotti freschi e fragranti a chilometro zero sapori decisi e seducenti piatti semplici ideali per assaporare gustose specialità all'Osteria del Mulino l'alchimia finale garantita sorseggiando un buon calice di vino immersi in un luogo incantato Marina è sempre brillante in forma sorridente il suo segreto beh il suo segreto lo sanno tutti è il Bar Pippo fai partire bene la tua giornata vieni a fare la tua colazione al Bar Pippo brioche, caffè, cappuccino spremuta al Bar Pippo ci puoi venire quando vuoi anche per un pasto veloce e un buon aperitivo oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con l'otto e super ennalotto Bar Pippo via Pietro Soriano zona Sant'Andrea delle Fratte Perugia Bar Pippo sempre gli stessi dal 1964 la tua sicurezza a 360 gradi Unipolzai divisione la previdente di Giampiero Pisello assicurazioni furto incendio RC auto vita accantonamenti pensionistici finanziamenti e premi a tasso zero consulenza specializzata ci trovi a Perugia via Briganti 93 Unipolzai divisione la previdente di Giampiero Pisello e non sbagli un colpo bene allora ve l'avevamo anticipato prima ripartiamo con un nuovo sport dopo l'atletica e il tennis che ripeto sono due sport che insieme al ciclismo cercheremo di settimanalmente di seguire attraverso i risultati della domenica precedente e il programma di quella successiva con ovviamente ospiti in studio e possibilmente immagini delle gare allora sono con Roberto Carraresi presidente della Feder Tennis regionale e Giacomo Cavarai che si dovrà dedicare un po' più al tennis perché essendo tennista come sport incontri farà il lavoro che fa Uccellini nell'atletica insomma via e quindi cercheremo anche di fargli fare qualche volta l'inviato allora con la trasmissione che avete visto la settimana scorsa mi pare abbiamo chiuso il circuito invernale che era quello della Targa Umbra c'è stata la premiazione del podio delle prime tre squadre poi la premiazione anche abbiamo fatto in due trasmissioni con questa novità cercheremo di proporla anche in altre discipline sportive la novità che è quello di premiare stando davanti ad una telecamera dopo l'evento ovviamente che si è concluso mi pare che poi la corsa sia stata molto gradita anche dai circoli che sono venuti volentieri e quindi ricordiamo tanto per ricordare che la Targa Umbra l'ha vinta nel Centro Tennis Perugia davanti al Tennis Striding Villa Candida a Foligno e il ritorno a far parlare di sé del Tennis Club Terry però adesso Roberto intanto sono in corso e poi la prossima settimana speriamo di portarvi qualche campione regionale almeno se non tutti magari potremo anche in un paio di puntate perché sono in corso i campionati regionali giovanili a punta al Tennis Striding Villa Candida a Foligno e c'è anche un bel torneo a Torgiano allo Sporting Torgiano dove torneo limitato mi pare 3-2 nel maschile 2-5 nel femminile e 3-5 nel doppio maschile tutto mi pare 147 iscrizioni che riniziamo adesso Torgiano che forse è una manifestazione di questo livello non l'aveva mai organizzata Roberto sì a memoria non l'avevamo organizzata ma abbiamo iniziato la stagione proprio ieri è finito un altro torneo di terza categoria a Tavernelle a 80 iscritti durante il periodo diciamo sì comunque invernale ancora lo consideriamo la fase di passaggio ma l'attività sta iniziando sta iniziando alla grande dopo questa targa umbra che ci ha visto protagonisti per i mesi invernali con la gratitissima diciamo sì organizzazione nuova di una premazione davanti alle telecamere come hai detto tu perché poi solitamente le premiazioni avvengono sul campo di gioco nel tennis appena finita la manifestazione ma questa è una manifestazione un po' atipica a squadre quindi ci è piaciuta molto l'idea e quindi è stata molto apprezzata anche dagli stessi partecipanti anche perché per dare loro poi una visibilità molto più ampia che non quella del semplice diciamo sì gioco durante della finale delle premiazioni dopo le finali quindi due tornei importanti Tor Gianna abbiamo detto abbiamo detto dei campionati umbri-giovanelli in corso che ovviamente sono la cosa che ci interessa di più primo perché sono campionati regionali ma soprattutto perché riguardano i giovani dall'under 10 anzi dall'under 9 all'under 16 questi sono non una tappa per eliminare per i campionati italiani perché sono quella invernale però comunque sia sono ambitissimi abbiamo oltre 180 iscritti di tutte le categorie bambini maschi e femmine quindi molto soddisfazione da parte nostra il livello qualitativo è buono e quindi vedremo un attimino di seguirli anche questi molto da vicino certo Giacomo allora tu giochi regolarmente a tennis ancora sì devo essere sincero gioco regolarmente a tennis due tre volte a settimana e questa sera sono abbastanza stanco perché ho trovato un avversario che mi ha impegnato e anche di brutto però il tennis assieme al calcio è rimasta la mia passione anche perché stavo pensando al presidente Gararesi prima quando illustrava le varie manifestazioni e sono tornato con la mente Roberto indietro di forse oltre 50 anni perché la mia passione per il tennis nacque quando da ragazzino scoprì che mio zio che lavorava in ferrovia era stato nazionale del dopolavoro ferrovieri ed aveva fatto anche la coppa lui mi disse la coppa europea del dopolavoro ferroviere una cosa impressionante e venne a costano dove avevamo due campi da tennis nuovi e iniziò a fare lezione e io rimasi impressionato prese alcune lezioni lui entusiasta insomma vabbè e ho iniziato a giocare a tennis lì poi accanto al campo da tennis c'era anche il campo sportivo quindi facevo l'uno e l'altro però il tennis è rimasto una passione particolare perché anche perché ho avuto dei seri incidenti due brutti incidenti anche alle spalle l'usazione abituale della destra e della sinistra intervento chirurgico e quindi poi ho ricominciato a giocare devo essere sincero vi do una notizia molti io spesso e volentieri perdo 6-3 6-4 però i miei amici mi dicono sempre vogliano giocare con te perché perché li metto in palla sì esatto io ho un gioco abbastanza teso lineare lineare semplice pulito pulito certo e quindi diciamo che i miei avversari con me si divertono questo è importante allora Roberto intanto ricordiamo anche che ci sono sono stati qualificati a Orvieto ormai è terminato domenica precedente all'ultima a Orvieto il BNL no? sì prequalificazioni degli internazionali BNL d'Italia sia maschili che femminili 383 iscritti un record assoluto 60 più rispetto allo scorso anno che già era stata un'annata importante a livello di questo torneo primissime scelte sia a livello maschile che a femminile hanno vinto nel maschile un ragazzo giovane di cui sentiremo parlare un 2-4 Sorrentino Sorrentino quindi perché il primo e la prima hanno poi diritto di partecipare alle qualificazioni degli internazionali a Roma quindi ovviamente un aspetto importante poi c'è anche la quarta categoria che andrà gli internazionali non per fare le qualificazioni ma per giocare per giocare il torneo di quarta ma anche i terzi andranno questo è il torneo che al mondo ha più iscritti perché nella totalità di tutte le tappe di qualificazione appunto il Road to Rome così come è chiamato rispetto a tutte le 20 regioni italiane che ospitano una tappa ci sono qualificazioni di quarta di terza di seconda categoria la somma di tutti i giocatori compresi poi i primissimi quindi i numeri uno del mondo che scenderanno a Roma fanno questo numero di oltre 10.000 partecipanti che lo fanno come il record Roma è quello che ha più iscritti al mondo e quindi questa è un'altra ma questa è una formula che le ottenono anche altri torneri anche a Parigi anche a Roma sì sì si lo fanno perché per dar modo fin dai giocatori di circolo di poter partecipare a quello che è il torneo evento della propria nazione e gli dà questo gli dà questa importanza i quarta categoria che hanno vinto il titolo andranno a Roma i terza categoria andranno a Roma i primi due della seconda andranno a Roma quindi ognuno nelle rispettive categorie perché poi ci saranno dei tornei appunto preliminari ma da molto interesse da molto interesse quindi questo è veramente tra l'altro c'è stata un'altra tappa sempre di Roma che riguarda invece i giocatori amatori fino alla categoria 4-4 quindi con tornei preliminari quindi una serie di eventi collaterali che sono iniziati a novembre e finiranno entro il mese di aprile che danno le qualificazioni nelle rispettive categorie ovviamente tutti con l'ambizione poi di andare a giocare nei campi nei campi di Roma durante quel periodo che dà tutta un prestigio ancora di più al nostro sport e tra l'altro devo dire che tanto inizia mi pare dal 6 al 18 di maggio 6 di maggio 18 avremmo appunto l'edizione internazionale d'Italia che tanto perché siamo in argomento alcuni considerano come un quinto slam adesso però c'è anche Indiana Wells che è terminato appunto domenica scorsa che ha vinto tra l'altro l'ha visto perdere Federer in finale forse è un po' anche frutto che comincia a sentirsi con l'età Federer 37 contro 24 anni contro Dominic Thiem l'austriaco una ragazza che ha vinto 18 anni 18 anni una ragazza inglese canadese quindi sì quindi dicevo Roma comunque resta uno dei primissimi tornei assolutamente sì c'è in animo dal prossimo stagione forse dal 2021 diciamo sì di fare una serie di tornei che si pongano tra i quattro del grande slam e i master 1000 quindi una serie di mini slam e ce ne sarà uno per continente Roma è tra le candidate europee fortemente candidate insieme a Madrid Roma ci sta investendo molto bisogna avere un impianto ancora più ampio e soprattutto un campo coperto per poter ambire a questo però diciamo sì la concorrenza ad essere limitata soltanto per l'Europa tra Roma e Madrid ma Roma rispetto a tutta quella che era tradizione l'organizzazione il movimento che porta è avvantaggiata uno per continente quindi saranno altri cinque tornei di ancora il nome non è ben chiaro ma comunque si pongono tra gli slam e i master 1000 quindi sarebbero cinca più cinca più i master 1000 quindi Roma potrebbe essere quattro più cinca più nove più tredici da cinquecento questo dovrebbe essere il progetto futuro e poi un'altra chicca che la federazione sta portando avanti è quella delle ATP final che adesso sono a Londra fino al prossimo anno poi i diritti sono scaduti ci sono la concorrenza di tante nazioni erano stati preassegnati a Tokyo perché l'Italia devo dire purtroppo per l'ennesima volta ovviamente poi diciamo si si intepongono anche delle esigenze non solo economiche ma anche politiche aveva rinunciato alla candidatura dell'Italia quindi di Torino dopo le Olimpiadi purtroppo questa era un'altra cosa che stava portando avanti la nostra federazione tennis insieme al CONI fortemente però non c'è stato l'ok del governo e quindi Torino era sparita dalle candidate invece notizia proprio di venerdì scorso è tornata fortemente in auge Torino perché comunque il problema era anche quello della fidigliuzione che bisognava portare il governo non se la sentiva il comune di Torino piuttosto che insomma c'era tutta una situazione economica importante perché ovviamente c'erano anche altre esigenze a livello nazionale la federazione è venuta incontro la federazione metterà la fidigliuzione che fortunatamente se lo può permettere e quindi Torino è tornata ad essere una candidata serissima perché gli interessi dell'organizzazione mondiale è quella di lasciarli in Europa quindi la candidatura di Tokyo è stata un attimino congelata e questione di qualche giorno speriamo di avere anche questa manifestazione importantissima che apparentemente si eleva a livello dell'Islam piuttosto di un'Olimpia di fare organizzare l'ATP del tennis è l'organizzazione principale quindi come spesa di premi qui si parla di soldi di euro di dollari è alta credo non so quanto è il Monteverry siamo qualche decina di milioni di euro qualche decina di milioni di euro un torneo di uno Slam stiamo intorno ai 12-15 Roma ce ne ha 8 più un film minile quindi stiamo ad una somma di 2 intorno ai 13-14 questi l'ATP stiamo intorno mi sembra a 26-30 se non vado errato quindi con cifre considerevoli però c'è poi un interesse un indotto fortemente diciamo si importate consideriamo che Wimbledon ha 45-46 milioni di sterline di Montepremi infatti il giro d'affari oltre i 100 milioni ma tutti gli Slam hanno oltre i 100 milioni di giro d'affari di giro d'affari quindi Roma ne muove ne movimenta la metà circa 50 però tutto ha finanziato e oltretutto con un utile di circa 5 milioni l'anno quindi non è più una manifestazione i diritti televisivi e gli sponsor e gli spettatori che Biscay hanno fatto oltre 300 mila presenti hanno uno stadio da uno da 12 e uno da 8 mila presenze presenze quindi anche Roma c'è l'esigenza di aumentare il problema che ovviamente Roma è per dove è messa nel posto più bello probabilmente al mondo ma ovviamente è molto vincolata e quindi tanti spazi non si possono aumentare però ovviamente la sua bellezza sta anche in quello e quindi se la federazione ci riesce è un'altra bella chicca questo pertanto per fare una panoramica un pochino sulle cose principali della nostra nazione noi nel nostro piccolo continuiamo a organizzare le tante attività importanti che ci hanno visto sempre ultimamente assai protagonisti certo che impressione ti fa bisogna andare a Torino se fanno il master a Torino assolutamente io vi confesso una cosa per il mio compleanno i figli mi hanno regalato il biglietto per gli internazionali di Roma il 13 maggio sarò a Roma oh vedi questa è una notizia e poi intervesterà qualche giocatore per un per sport in corso certo anche perché poi se si chiedono in tempo anche gli accrediti per la stampa ci sono anche la possibilità di andare negli spogliatoi piuttosto che andare insomma comunque nei settori riservati alla stampa che può essere una cosa di interesse io comunque mi dovremmo rifatti di fare qualcosa per gli internazionali volevo se no io te lo garantisco il lunedì 13 maggio sarò sicuramente al al Roma al al fuoritalico sì al fuoritalico volevo solamente sottolineare due cose primo che essendo io socio del 3T qui a Santa Maria degli Angeli da anni forse sono uno dei soci più vecchi perché quando tornai da Roma ad insegnare a Bastia io mi iscrissi al 3T quindi parlo del 76 76 77 è da allora che gioco a tennis e volevo soprattutto fare ma non è per piageria Roberto i complimenti al presidente perché in questi ultimi anni mi sembra di aver visto che la federazione tennis Umbra è non dico raddoppiata ma credo sia triplicata agli iscritti se non quadruplicata Roberto è così? Assolutamente sì siamo arrivati lo scorso anno siamo stati a 6600 iscritti l'anno precedente 6500 qualcosa l'anno prima non eravamo 5000 12 anni fa eravamo 1400 tanto per dire quindi siamo sicuramente più che triplicati nell'arco di un decennio con dei numeri importanti non solo ma io finché sono stato a scuola mi ricordo il tennis va in piazza la manifestazione che tuttora esiste sì 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 e ho visto l'entusiasmo lo vedo anche da parte dei bambini e delle bambine che frequentano qui il 3T a Santa Maria degli Angeli e vedo dei ragazzini di 10-11 anni io rimango a bocca aperta perché giocare a tennis sembra facile ma se non si acquisisce una certa coordinazione motoria vedo ragazze che insegnanti di educazione fisica che fanno la preparazione coordinativa cioè il tennis è uno sport non facilissimo però vedo anche un elevatissimo numero di bambine e ragazzine e questo è estremamente importante sì sì noi con questa manifestazione di cui dicevamo poco anzi il tennis in piazza sono oramai tantissimi anni che lo portiamo con la semplicità del gioco una mattinata di spensieradezza questi ragazzi possono provare il nostro sport e devo dire abbiamo ricevuto tanti successi soprattutto nelle piazze meno importanti ovviamente dove magari proprio il tennis non era presente perché è stato un elemento di promozione e lì magari sono nati i circoli e quella è stata la soddisfazione più grande che abbiamo avuto poi ovviamente siamo stati nelle prime edizioni anche nelle grandi città nelle due capoluoghi di provincia nelle città grandi della nostra regione però ovviamente il livello era una cosa un pochino più istituzionale invece laddove siamo andati nelle piccole piazze ovviamente abbiamo avuto tantissimo successo che è uno degli elementi che poi ha portato ai nostri successi no no sono pienamente d'accordo anche perché sapete tutti insomma Sergio lo sa benissimo anche il presidente Roberto Carraresi io ho sempre portato avanti finché ho insegnato l'attività motoria e sportiva perché perché attraverso l'attività motoria e sportiva non solo si acquisisce coordinazione motoria ma si acquisisce cioè si migliora anche dal punto di vista del rendimento scolastico assolutamente vero bene allora abbiamo chiuso anche la parentesi del tennis questo martedì di sport e incontri in onda sul canale 11 di Telerario Gubbio partendo dalle 23 alle 24 cosa che succede tutte le sere dal lunedì al sabato poi la replica alle 12.30 il giorno successivo e sempre il giorno successivo sul canale 11 alle 18 e 15 chiaramente trasmettiamo anche in streaming e sul canale www.trgmedia.it potete anche rivedere le trasmissioni a distanza di qualche tempo a distanza anche di 3-4 giorni che poi rimangono ovviamente dentro appunto il sito di www.trgmedia.it andate su questo indirizzo e poi troverete ovviamente la scritta sport e incontri entrate lì e vi potete rivedere in qualsiasi momento funziona anche il nostro sito facebook che dobbiamo assolutamente ampliare e io saluto Roberto Carraresi ringrazio il presidente della Fittumbria parleremo di tennis a questo punto credo quasi tutte le settimane e il collega Giacomo Cavarai che adesso si dovrà informare come funziona il tennis regionale grazie a tutti e buonanotte a questo